Settemila persone in aula a Paolo VI sono le famiglie numerose che insieme a Papa Francesco hanno ricordato la festa della Santa Famiglia di Gesù e dieci anni dell'associazione che le riunisce. A loro ha fatto presente che i figli sono il miracolo della vita e che nelle famiglie numerose, scuola di solidarietà e di condivisione, i bimbi sono più capaci di comunione fraterna. Quindi un frutto buono della grande famiglia umana che sostiene il Papa è una foresta dove gli alberi buoni portano solidarietà, fiducia, sostegno, sicurezza, sobrietà, felice. E gli alberi buoni sono quelli che hanno buone radici, i nonni, buoni tronchi, i genitori e buoni frutti, i figli. Per questo, aggiunge, è molto importante la presenza dei nonni sia come aiuto pratico ma soprattutto per l'apporto educativo. Nel salutare le famiglie numerose Francesco assicura la sua preghiera per quelle più sofferenti a causa della crisi economica, della mancanza di lavoro per uno dei genitori o per i giovani, per le famiglie, provate negli affetti più cari e quelle tentate di arrendersi alla solitudine e alla divisione. Poi, un vibrante appello alle istituzioni. Auspico quindi, anche pensando alla bassa natalità che da tempo si regista in Italia, all'1%, niente. Una maggiore attenzione della politica e degli amministratori pubblici ad ogni livello al fine di dare il sostegno previsto a queste famiglie. Ogni famiglia è cellula della società, ma la famiglia numerosa è una cellula più ricca, più vitale, e lo Stato ha tutto l'interesse a investire su di Elsa. Grazie. Grazie. Grazie.